Grandi festeggiamenti per i dieci anni di attività del gruppo comunale dell'Avis di Carpinone. La sezione di donatori di Sanque, intitolata Domenico Tamasi, ha celebrato il decennale di solidarietà e vicinanza nei confronti dei più fragili. Una messa solenne, poi la posizione di una targa nella villa comunale. Tutto nel ricordo della presidente dell'Avis provinciale di Sernia, Fernanda Fidenzio, scomparsa di recente. Fernanda è stato sempre un punto di riferimento per noi Avis comunali, sempre presente, a darci consigli, ci è stata sempre vicino, quindi era nostro dovere ricordarla in questa occasione. Sono un centinaio gli iscritti alla sezione comunale, un dato particolare perché i donatori rappresentano circa il 10% della comunità di Carpinone. Il grande lavoro del gruppo non si ferma solo alla donazione del sangue, ma anche ad attività collaterali dal risvolto sociale. Ogni due anni viene organizzata la partita del cuore. Raccogliamo dei fondi che diamo in beneficenza per due associazioni. Una associazione che fa ricerca sulla malattia di Lafora e un'altra associazione che si chiama Agbe, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara. Nel corso dei dieci anni tanto impegno, ma anche tante soddisfazioni. La presidente Dina Di Fatta ricorda con commozione il saluto dedicato qualche anno fa all'Avis di Carpinone da Papa Francesco durante l'Angelus. Come vi disse il Papa? Saluto tutti i donatori dell'Avis di Carpinone, Dio vi benedica.